Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Alcuni vecchi paesi della vecchia Europa, come la Germania o l'Inghilterra, hanno detto che l'Iran non deve attaccare Israele. Lo leggo su Repubblica, rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico. L'Iran non attacchi Israele. Ora, in linea generale, siamo d'accordo anche noi sul fatto che si debbano arginare gli attacchi, che la guerra debba essere messa fuori gioco, che debba prevalere la pace. Su questo nulla a questio. Il problema però è un altro. Il problema è che a Israele viene consentito letteralmente tutto e di tutto, da che tutto quello che fa Israele viene sempre legittimato dicendo che è il diritto di Israele di difendersi, che è la lotta di Israele contro il terrorismo. E secondo questi due teoremi Israele sta compiendo veri e propri massacri, come è accaduto a Gaza, sta colpendo stati sovrani autonomi, come ha fatto con il raid in Iran. Insomma, siamo d'accordo. L'Iran non deve attaccare Israele, d'accordo. Ma Israele invece doveva attaccare l'Iran? È stato legittimo l'attacco di Israele contro l'Iran? Perché la cosiddetta comunità internazionale, un altro ipocrita nome dietro il quale si nasconde l'Occidente, anzi l'Occidente, non dice nulla sulle politiche di Israele? Perché non si dice una buona volta che Israele deve smettere di attaccare i paesi sovrani? Perché non si dice una buona volta che Israele deve smettere una volta per tutte di produrre massacri come quello che sta compiendo a Gaza? Su questo la comunità internazionale continua vergognosamente e deplorevolmente a tacere.